Sono Silvio Berni del Consorzio di Attività Produttive e come consorzio abbiamo portato l'esperienza di partecipazione dell'area industriale di Buonporto al progetto Smart Med Parks. L'area produttiva di Buonporto è un'area industriale di grosse dimensioni che si sta cercando di promuovere come area produttiva ecologicamente attrezzata. L'area di Buonporto è un'area che il Comune di Buonporto ha approvato nel 2013 come area produttiva ecologicamente attrezzata. Il Consorzio sta cercando di attrezzarla con una rete di teleriscaldamento, ampliando la rete di teleriscaldamento presente oggi nel centro abitato di Buonporto, realizzando una sottocentrale, riuscendo in questo modo a rendere efficiente la risorsa termica, recuperando eventuali cascami di calore presenti nelle aziende, presenti nel comparto. Grazie.